buongiorno benvenuti a questa diretta della zuppa di porro di oggi 31 maggio giovedì grazie per quelli che ieri sera hanno fatto tardi con noi in questa diciamo rincorsa a capire che cosa sta succedendo in italia sono passati più di 80 giorni come ho detto ieri sera non si riesce a fare il giro del mondo ma neanche il presidente del consiglio in 80 giorni una cosa ridicola in questo momento di maio sta tornando scusatemi matteo salvini uno dei due protagonisti sta ritornando a roma questa è una cosa che riguarda le agenzie non ancora i giornali perché ieri era in campagna elettorale mi sembra a siena o a genova non mi ricordo dove fosse torna a roma perché deve parlare con di maio e il presidente eventualmente della repubblica perché di nuovo tutto cambiato ci troviamo nella condizione come nota oggi mi sembra non mi ricordo chi lo ha notato su quale giornale e forse calabresi mario calabresi nel suo fondo di repubblica ci siamo in quella grottesca situazione in cui ci sono tre governi potenziali quello di gentiloni che di fatto è ancora il governo italiano perché non è stato mai sostituito da un altro governo quindi funziona così che finché non viene sostituito quel governo ancora c'è il governo conte perché oggi sembra ritornare prepotentemente l'ipotesi che si possa fare un governo di leghisti e del movimento 5 stelle con la giunta della meloni che nel frattempo io non ho ben capito per quale motivo ha dato il suo via libera al governo che fino a ieri non voleva e il terzo governo è quello di cottarelli là nel cassetto che è pronto per uscire se non dovesse andare in porto e l'ultima mediazione con di maio e salvini e questa è la situazione grottesca in cui ci troviamo tre governi dice giustamente calabresi che sono che danno il senso però cosa che calabresi non dice forse anche di qualche imbarazzo da parte del Quirinale insomma il comportamento del Quirinale possiamo dire che è difficile come spesso lo è durante la soluzione di una crisi e dopo una situazione come l'attuale in cui la testa sia una testa maggioritaria ma sia una legge proporzionale qua travaglio dice la pessima criminogena legge non so se fosse migliore quella proporzionale che tanto amavano e firmarono i suoi lettori cinque stellati ecco non so se fosse tanto meglio rispetto a quella tale sono due leggi proporzionali ma avendo noi la logica maggioritaria per cui ci deve essere un vincitore e questo vuol dire lo scenario della insomma della modernità ecco la proporzionale che la proposta al momento 5 stelle certo non ti dava un vincitore ma ti dava una situazione anche forse meno chiara di quella che c'è oggi detto questo detto questo ci sono altri elementi quindi oltre a questo c'è la salita al Quirinale di Di Maio che è un'altra cosa che raccontano oggi i giornali secondo me anche in questo caso in una maniera un po' dissociata qualcuno parla di una banda dissociati perché francamente voi vi immaginate uno che la sera prima dice che vuole l'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica e il giorno dopo va al Quirinale e dice scusami abbiamo scherzato non solo non c'è l'impeachment ma che che era una cosa che non ci stava ma solo evocarlo era una cosa assurda ma non solo c'è l'impeachment ma cambiamo Savona al Ministero dell'Economia perché questa è la novità di oggi si dice che Savona potrebbe essere spostato secondo Corriere, Repubblica, tutti i giornali addirittura al Ministero degli Esteri quindi un ministero importante anche se non operativo per l'euro e al posto di Savona qualcuno pensava che potesse andare ciocca ex Banca d'Italia ma è stata subito smentita questa ipotesi di ciocca però lo devono trovare subito il Ministro dell'Economia perché ovviamente su quello si gioca il delicato equilibrio tra Salvini che dovrebbe fare un passo indietro o avanti e Di Maio che il passo lo vuole fare a tutti i costi per diventare ministro di un governo giallo-verde. C'è un'altra considerazione da fare, la fa mi sembra Tommaso Labate oggi sul Corriere della Sera e dice attenzione perché ieri per la prima volta il capitano come viene chiamato da Luca Morisi che è il genio che sta dietro alla costruzione vera reale ma mediatica internet di Salvini che per la prima volta ieri durante una diretta Facebook del capitano cioè di Matteo Salvini ci sono state molte critiche sul fatto che lui fosse lì a fare campagna elettorale cosa che a lui piace molto e che non volesse chiudere questo governo come dire il popolo leghista vorrebbe che si governasse che non ci fosse questa impuntatura su Savona non so se sia vero e lo stesso Labate dice non può essere certamente un campione voglio dire rappresentativo quello di internet ma siccome i social media hanno avuto un grande peso nella vita di e nel successo di Salvini insomma bisogna forse tenerla in considerazione quindi fai un passo indietro dicono questi signori fai sto cavolo di governo Salvini rinuncia pure alla ciao Arrigo rinuncia pure alla tua diciamo impuntatura su Savona dico io potevamo farlo qualche giorno fa ma non lo so insomma mi sembra una cosa incredibile vediamo oggi pomeriggio questo incontro di Salvini con Di Maio e poi si scaturirà qualche cosa al colle molto interessante decide Salvini il titolo del giornale ma questo ormai lui è chiaro per tutti mi sembra che siano tutti lì ad aspettare Salvini compreso Di Maio e un'altra interpretazione molto interessante quella che dà il fatto secondo me sul fatto che Di Maio sarebbe stato moderato da quel criminale per me è un criminale di Grillo un deficiente Grillo è un genio deficiente le due cose uno simoro ma vanno insieme perché quello che si è inventato il vaffanculo dei è quello io a cui non farei gestire non soltanto un'auto visto come le ha gestite nella sua vita uccidendo alcune persone ma non gli farei gestire neanche il mio condominio va bene a Grillo molto meglio gli uomini di Grillo molto meglio lo dico qua che così vi è a tutti chiari tutto il resto che c'è Grillo era quello che distruggeva il computer e poi ha deciso perché faceva uno schifo poi ha deciso che Casaleggio era il suo guru insomma quello è Grillo il disastro della del pensiero della coerenza l'uomo che veniva pagato in nero e che ci rompe oggi le balle sull'Italia criminale insomma quella roba lì io non ci voglio pensare ma l'idea che lui Grillo sia quello che ha modelato oggi Di Maio come sostiene Travaglio per il quale se una roba arriva da quella parte va sempre bene mi fa molto ridere cioè il criminale assassino come l'avrebbe definito Travaglio perché Travaglio definisce delinquente Berlusconi ma quindi dovrebbe definirlo assassino Grillo beh insomma l'assassino è una persona da tenere in considerazione ed è quello che ha moderato Di Maio secondo lo strillone del Movimento 5 Stelle molto molto interessante il pezzo di oggi di Forte perché Francesco Forte sul giornale fa un ragionamento molto semplice ma noi abbiamo avuto una crisi dello spread come vi ricorderete tutti nel 2011 quando arrivò al 500 l'Italia stava per saltare Berlusconi fu fatto fuori arrivò Monti e cambiarono le cose ma vi ricordate quanto era il debito pubblico nel 2011 con Berlusconi se lo ricorda forte e ve lo ricordiamo noi 118 per cento oggi siamo al 130 per cento e porca puttana è aumentato il debito nonostante questi governi fenomenali Renzi straordinario Letta per bene Monti il riformista insomma il debito è aumentato e soprattutto nessuno ci ha tolto dalla fragilità dello spread siamo esattamente ancora in balia dei mercati finanziari per la nostra debolezza intrinseca allora questi governi che sanno tanto i susseguosi Asta salvo Salvini Savona eccetera ma che in questi cinque anni ci hanno forse messo al riparo da qualcosa questo è poco ma sicuro no ci troviamo esattamente nella stessa identica condizione c'è quella di un debito che è aumentato e di uno spread che la fa da regina ultima cosa della giornata è sul messaggero di oggi a parte la patetico incontro sul mattino di De Magistris col Quirinale cioè il Quirinale è proprio De Magistris che piagnucola e va da lui e dice c'ho tanti debiti c'ho tanti debiti fatti da lui chiaramente non delle precedenti amministrazioni fatte da lui ma comunque la cosa più bella è la vicenda di Torino prima pagina del messaggero la guardia di finanza multa 516 euro un gelataio di Torino perché entra un cliente prende due coppette di gelato a una gli mette la panna che costa 50 centesimi lui gliela regala cioè non incasta 50 centesimi questi escono la guardia di finanza ovviamente fanno il loro mestiere come sempre i sensi della legge e della loro cretinaggine va bene perché questa è una legge per cui non ci si rende conto che leggi legislatori guardia di finanza vigili urbani impiegati sono al nostro servizio non noi al loro servizio sono pagati da noi non siamo noi che dobbiamo ringraziarli e metterci in ginocchio quando questi sono i nostri servitori chiaro perché noi paghiamo con le nostre tasse i loro cazzo di stipendi ebbene viene multato il proprietario della gelateria di 516 euro perché ha regalato in una coppetta un po' di panna chiaro e allora perché viene multato perché ci sarà una legge del cazzo fatta dai giustizialisti che dicono che siamo tutti evasori fiscali non capendo che questo gli ha regalato della panna e non ha battuto lo scontrino come si sarebbe dovuto battere con scritto regalo della panna va bene questo vuole dire 516 euro quanti gelati deve vendere quel gelataio per recuperare 516 euro di multa oltre ai soldi che lui ogni mese paga quei cazzo di finanzieri che gli hanno fatto la multa e quei cazzo dei controllori della usle della asle del lavoro che tutti i giorni gli fanno un ammazzo così e i commercialisti privati che fanno il loro mestiere che fanno la compliance su tutte le norme fiscali e poi intervistiamo e poi si intervista il gelataio di Roma no? Fassi la grande gelateria e sapete che dice il gelataio di Roma? Questo a Roma non potrebbe succedere e perché non potrebbe succedere? Non potrebbe succedere perché a Roma noi nella nostra gelateria la regaliamo sempre la panna ma non hai capito caro gelataio di Roma qual è il senso? Tu non l'hai capito? A me non me ne fotte nulla che tu sei bravo che regali la panna a me interessa che viviamo in uno stato di polizia fiscale per cui tu prendi una multa di 516 euro perché tu hai deciso di farla pagare legittimamente la panna io questo lo trovo che se anche il commerciante se anche l'artigiano non riesce a capire non riesce a capire la stortura di questo sistema siamo proprio i magliadi di Orwell vogliamo comandare chiaro? È una cosa che forse è molto difficile a spiegare ma è così quando io vedo i programmi elettorali, manette e gli evasori, è questa, è questa, è l'Italia delle leggi e del fenomeno del gelataio che c'è il palazzo della straminchia qua all'Esquilino che dice ma noi la regaliamo? No, tu devi essere solidale col tuo collega di Torino dicendo non si fa una multa di 516 euro per 50 centesimi di panna regalata, 50 centesimi 516 euro, chiaro? E noi come facciamo il PIL? Come paghiamo gli stipendi alla finanza? Ai magistrati? Ai poliziotti? Ai carabinieri? Ai nostri servitori? Se noi continuiamo a pensare che siamo tutti dei delinquenti? Ci sentiamo questa sera, ciao!